Quindi ragazzi, più vado avanti a scrivere più mi accorgo, forse anche Carmelo Bene l'ha detto, però io me ne accorgo proprio come me ne accorgessi, insomma me ne accorgo al di là che Carmelo Bene o non Carmelo Bene, che la poesia, il romanzo, cioè la prosa, io non la so scrivere oppure non mi interessa scriverla, insomma non trovo neanche più di tanto ormai interessanti le prose e quindi i romanzi che sono iscritti in prosa degli autori contemporanei e anche del passato alla fine. E però ci sono le poesie, cioè le poesie invece mi piacciono perché la parola poetica rimane ancora, rimane, cioè le parole possono essere dette ad alta voce, possono essere pronunciate e quindi non, quindi la poesia è legata indissolubilmente all'oralità. Quindi la poesia, la letteratura e quindi non la prosa ma è legata all'oralità e l'oralità è anche, può essere anche in prosa in realtà, cioè una serie di poemetti, di psicopoemetti che io ora vi vado a dire. Andremo ragazzi a raccontare, sempre con una registrazione in cui mi trovo piuttosto bene, poi passeremo anche alle immagini, ma detestando appunto le immagini. Allora, psicopoemi, quindi in prosa, in prosa bodleriana ma che sono poi delle fanfole poetiche. Fanfole in cui mi chiedo se sono o no gasteropode, per esempio, altre domande, altre summe orgogliose, di disoccupazione, a intasare redazioni editoriali, insomma, tosando fogli di carta e tonsando, riempendo fogli di carta, chiedendomi se non è bastevole, insomma, se non basta l'ossigeno a due che si amano. Può essere di non essere uguale a nessuno, diverso da tutti, uguale a qualcun altro, perdersi nella forma perfetta di uomo, svalvolata un istante, subito dopo riformata, ma che in un attimo di grazia, disgrazia, senza rumore di canizza o ululato, si scopra l'essenza della vita che non è. Arriva pure un carapace della pazzia a turbarmi e scatenarmi, e infine, ma davvero infine, togliermi le catene. Star da solo, per star da solo, che è diverso dallo star da solo, per star con gli altri delle stars.